ci siamo ragazzi siamo pronti per iniziare se sentite le mie parole cortesemente scrivete un ok in chat così poi iniziamo grazie Augusto il tuo è il primo ok eccoci ciao bentornati sul canale youtube di associazione culturale Maggiolina ad una delle nostre dirette delle 18 in questo periodo sapete che mi fate compagnia ci facciamo compagnia reciprocamente in diretta qui a parlare di computer e in questi giorni cerchiamo di andare avanti col nostro corso di computer base ma non solo ovviamente vedremo anche altri argomenti oggi tocca la posta elettronica oggi che è il 3 aprile 2020 siamo arrivati al punto del nostro corso di computer base che dopo aver capito come funziona un po' il mondo internet come ci si muove all'interno è ora di parlare di posta elettronica quindi abbiamo una nuova copertina del nostro corso con un po' i colori di richiamo delle versioni precedenti e adesso si parla di posta email o posta elettronica che poi ovviamente è la stessa cosa fatemi tornare alla chat così posso rispondere alle vostre domande dare un'occhiata alla connessione è tutto a posto allora sappiamo tutti ormai cos'è la posta elettronica penso che chiunque sappia che la posta elettronica è un messaggio che io posso mandare da un dispositivo quindi non solo dal computer dal computer, dal tablet, dallo smartphone a un'altra persona che lo leggerà anch'essa su uno di questi dispositivi e quindi un messaggio scritto di testo che arriva istantaneamente a un'altra persona anche dall'altra parte del mondo non solo testo perché in realtà siamo abituati con la posta elettronica a inviare anche immagini quindi fotografie musica, video ma anche file quindi in generale posso allegare al mio messaggio di posta anche un file ci sono due tipi di posta e quindi due tipi di posta elettronica la posta elettronica tradizionale quella che utilizzo per mandare un messaggio gratuita e aperta a tutti basta richiederla e si ha la nostra la nostra casella di posta elettronica poi vediamo questa cosa saluto Giuseppe che dice è la prima volta che sono con voi per cui benvenuto Giuseppe oppure c'è la PEC posta elettronica certificata la PEC questa casella di posta ha la funzionalità speciale di certificare anche in sede legale cosa è stato inviato a chi quando e che quella persona lo ha ricevuto quindi una sorta di raccomandata con ricevuta di ritorno per cui c'è stato un periodo in cui è diventata obbligatoria per un certo numero di persone un certo numero di categorie di persone quindi oltre alla posta tradizionale c'è anche la PEC posta elettronica certificata che generalmente è a pagamento si paga un canone annuale dai pochi euro fino a qualcosa di più per spedire poi qualsiasi quantità di messaggi di posta quindi nella posta elettronica non c'è un consumo una tantum una spesa una tantum nella spedizione del messaggio ma nel caso della PEC c'è un canone annuale mentre invece la posta elettronica tradizionale quella che comunque tutti quanti utilizziamo e che comunque tutti quanti dobbiamo avere anche chi ha la PEC è gratuita e si può spedire tranquillamente vediamo se in chat c'è qualcosa che riguarda il nostro discorso no direi di no bene direi che tutti quanti abbiamo la posta quindi tutti quanti abbiamo un indirizzo di posta elettronica perché è talmente indispensabile che non possiamo non averne uno e anzi ne avremo anche più di uno e averne più di uno genera un po' di confusione perché se io ho due indirizzi poi devo guardare chi mi scrive sui due indirizzi o tre indirizzi devo guardare chi mi scrive sui tre indirizzi è come avere più numeri di cellulare e poi te li devi portare appresso vediamo le domande in merito allora Alessandro dice la mail di Tiscali viene letta da un account Gmail qui adesso dobbiamo cominciare a ragionare su queste cose qui Outlook non mi funziona Matteo vabbè non basta questo per sapere come risolvere la cosa vediamo se c'è qualcosa d'altro e ci siamo qua allora vedo Antonio che dice ogni tanto si blocca per quanto ci riguarda la nostra linea posto in tutto e per tutto grazie della segnalazione ma non può dipendere da noi quindi abbiamo fatto anche un video sul come si blocca e perché si blocca ogni tanto ringrazio Augusto per l'uso dello super sticker grazie infinite Augusto vediamo cosa dice Gilberto a quanto ammonta il canone della PEC dipende da dove si chiede nel senso che la PEC va richiesta a un'azienda di servizi informatici di comunicazioni comunque servizi informatici perché questo è un servizio informatico e ognuno fa le sue tariffe in base anche a ciò che ti serve perché oltre alla certificazione della spedizione di un dato messaggio con certificazione della ricevuta ci può essere anche una firma digitale quindi la possibilità di firmare digitalmente dei documenti con varie opzioni da quello che ricordo va dai 5 euro per il più economico in su poi dipende da chi lo si chiede in genere in passato i primissimi tempi dato che le prime persone che dovevano farla erano professionisti per azione compartita IVA eccetera ed era ai tempi una cosa strana da fare non sapevano ancora bene usare il computer quindi ma la facciamo fare il commercialista costava tanto perché la commercialista faceva pagare il suo servizio in realtà di per sé la posta elettronica ha un costo più basso la PEC allora vediamo cos'altro ci sono Luigi dice le email sono criptate no non che io sappia nel senso che i messaggi di posta viaggiano è come i messaggi immaginiamoci come una lettera la lettera è criptata quando viene spedita no un messaggio di posta poi ci sono sicuramente dei sistemi di sicurezza per invitare che vengano intercettate e quant'altro ma non cadiamo di nuovo nel discorso eh ma è sicuro ragazzi la posta elettronica è un modo per spedire una lettera un preventivo una fattura a un'altra persona se devo spedire segreti di stato non uso la posta elettronica così come magari non userei una lettera spedita tramite postino c'è garanzia di riservatezza ma ogni garanzia sappiamo che può essere superata in qualche modo se c'è volontà di farlo quindi non ripartiamo questo una telefonata eh ma qualcuno le ascolta se c'è qualcosa di super segreto non spediamolo non diciamolo non pensiamolo perché è l'unico modo per tenere super segreta la cosa ok vediamo cos'altro si dice in chat cerchiamo di mantenerci sull'argomento allora Giuliano dice la firma digitale rientra nell'argomento di stasera no e non rientra mai nell'argomento in definitiva perché ci sono talmente tanti modi di farla in maniera diversa di ottenerla di spedirla di averla e di versioni che è praticamente impossibile riuscire a dirci tutto posso dire che a me è capitato di dover firmare digitalmente un documento un documento fiscale chi me l'ha mandato mi ha mandato il documento l'ho letto a video c'era la funzione di firmare questa è la tua firma digitale accetti sì no sì finito non ho dovuto spendere niente il documento è stato legalmente firmato eccetera ci sono mille cose sempre in evoluzione dipende da cosa ci devo fare con questa cosa però bella la domanda di reargomento di stasera magari approfonderemo in qualche in qualche maniera allora il pulsante in alto a destra che dimensiona i caratteri va bene non ci interessa in questo momento Elvira io ho la PEC composte e dice il prezzo vedete che può essere economico Attilio buonasera Daniele per dare un contributo ok vai sul sito amici di Maggiolina oppure sul simbolino del dollaro sotto qui dove c'è la super chat quante domande vediamo cosa si dice Maurizio ciao Daniele complimenti sempre la mia banca mi ha fornito il servizio PEC in modo gratuito bene molto bene Martina nel mio ufficio chiedono anche opzioni ricevimento lettura serve se utilizzo la PEC no questa è una cosa interessante allora se io mando un'email a un'altra persona siamo qui e allora in questo momento parliamo della posta elettronica nel titolo abbiamo detto iniziamo a parlarne quindi giriamoci attorno diciamoci un po' tutte le cose poi inizieremo attivamente a farla allora Martina giustamente dice a me quando fanno spedire la posta o comunque chiedono sempre opzione di ricevimento e lettura nel senso quando spedisco un messaggio io posso chiedere di sapere quando quel messaggio viene ricevuto e di sapere quando e se quel messaggio viene letto ha un qualche valore serve dice Martina no non più di tanto l'unica cosa che ha valore è la PEC perché io ho certificazione che quel messaggio è stato recapitato o poi che sia letto no non mi interessa è stato recapitato e il contenuto di quel messaggio era certificato quindi questo ha valore in sede legale il resto è il fatto di sapere ho mandato un messaggio a una persona l'avrà letto quella persona lì e quindi posso scegliere questa opzione non con Gmail perché la Gmail non ha questa funzione se non la versione professionale quindi G Suite per chi ha un account professionale allora c'è anche questa versione perché non ha valore più di tanto perché dipende da chi la riceve cioè io spedisco un messaggio richiedo l'opzione di ricevimento o di solito viene chiamata la conferma di lettura voglio sapere se l'altra persona l'ha letto io ricevo questo messaggio posso leggere il messaggio senza dare conferma di lettura cioè lo ricevo lo leggo il computer mi dice vuoi dare conferma di lettura no perché la leggo lo stesso senza dare conferma di lettura quindi non ha anche un valore o viceversa ricevo il messaggio mi viene chiesto vuoi dare conferma di lettura sì e il mio computer comunque non la dà perché il sistema informatico che protegge magari i server dell'azienda o del singolo non permette che da un messaggio esca un qualcosa di automatico come la conferma di lettura perché non ci fidiamo e quindi non ha valore più di tanto posso chiedere la conferma di lettura ad altre persone quando mando un'email e se quella persona mi fa la cortesia di dire di sì e se il suo computer mi manda la conferma ok so che è stato letto ma non ha alcun significato o alcun valore perché comunque se non ricevo la conferma non vuol dire che quella persona ha avuto la volontà di non darmi la conferma o non ha letto il messaggio semplicemente non mi è arrivato e quindi serve fino a un certo punto però ovviamente ognuno fa i suoi calcoli allora vediamo cos'altro se licenciate è passata un po' torna un po' indietro quindi diamo un po' di spazio a queste domande allora vediamo un po' Attilio avevo già letto Sonia come si fa ad allegare dei documenti scannerizzati ok qui ci arriveremo quando sarà praticamente il momento di farlo grazie per i complimenti a Maurizio dice la mia banca ok ha detto che mi dà la PEC Milan farai vedere come si crea come si crea o solo si spiega l'email dipende da dove arriviamo ovviamente vogliamo creare anche una casella email vedo che ci sono tante domande in questa fase volevo vedere se era il caso di ampliare questo discorso proprio perché la posta elettronica la si dà per scontata ho la posta elettronica però in realtà può fare varie cose a seconda di quello che devo fare devo anche decidere quale scegliere o meno allora Stefano buonasera mi piace va bene grazie infinite grazie dei complimenti Renny come collegare whatsapp al tablet o al cell ne abbiamo parlato in altre occasioni e ne riparleremo in altre occasioni rimaniamo sulla posta elettronica Tiziano ma la firma digitale si può mettere su una mail normale no il documento con firma digitale deve essere un documento particolare quindi devi avere un qualcosa da firmare deve essere fatto in una maniera particolare allora vediamo un attimo ancora cosa si dice perché la chat si muove molto velocemente intanto ringrazio la super chat vado giù in fondo a vederla grazie infinite a Tilio per l'uso della super chat che per noi è un sostegno importantissimo allora mi vedete guardare qua a sinistra perché ho qui il monitor con tutte le chat allora avevo perso il filo vediamo un po' spero di non aver saltato qualcuno no ci siamo allora Roberto quando inviamo un allegato è possibile vederlo prima di spedirlo no di solito quando sei lì che stai per spedire un allegato devi sapere esattamente dov'è come si chiama eccetera perché lo spedisci in quel momento lì quindi meglio avere consapevolezza prima di che cos'è dove è eccetera perché non sempre è possibile controllarlo anzi potresti ma poi si va fuori da tutto e si perde un po' il filo di quello che si stava facendo allora Niang ciao Niang buonasera a te ciao Romolo allora Angelo quando e come si paga la PEC la PEC si paga annualmente al gestore a cui la si richiede vedremo che per ottenere un qualsiasi indirizzo di posta elettronica noi avremo necessità di rivolgerti di rivolgerci a un gestore di posta quindi adesso lo faremo digitalmente cioè andremo sul computer andremo a cercare questo gestore nel caso della PEC questo gestore ci chiederà dei soldi per farlo e di solito ha un costo annuale poi magari ci possono essere mille situazioni ma fino a dove arrivo io so che è un canone annuale paghi anticipatamente quest'anno per l'anno a venire e stop in sostanza la PEC può essere mandata a un'altra PEC cioè ha senso per me avere un indirizzo di posta elettronica certificata se ho persone con indirizzo di posta certificata persone enti eccetera a cui spedirla perché le PEC comunicano tra loro se io ho la PEC e tu hai una posta normale non è detto che ottengo le cose e sicuramente non ottengo la certificazione cioè alcune volte se non è PEC anche la tua non la ricevi proprio e viceversa se tu mi scrivi e non sono entrambe PEC non la riceviamo proprio altre volte magari ricevo il messaggio ma non ha valore di PEC quindi la PEC serve proprio per comunicazioni ufficiali in genere tutti gli enti ce l'hanno gli enti pubblici e in genere in passato era tutte le partite IVA scritte in camera di commercio tutti i professionisti scritti ad albi professionali ora non lo so perché è passato tanto tempo c'è da tanto tempo la PEC devo dire che forse non è neanche utilizzatissima si pensava che un giorno tutti quanti avremmo avuto la PEC in realtà adesso non se ne parla più tanto però esiste c'è e sicuramente chi la usa ha motivo di farlo allora vediamo cos'altro si dice Gaetano come devo fare per scaricare la musica quello è un altro discorso fuori da quello che ci stiamo dicendo adesso buonasera Daniele buonasera a te allora Mauro dove si vede la conferma di lettura qui anche qui vedremo quando sarà il momento di farlo fisicamente Luigi con le PEC se buttano via un messaggio per errore questo può essere recuperato sempre un messaggio cancellato accidentalmente va nel cestino e quindi si può tirar fuori Maurizio scusa Daniele inviando un allegato con la PEC lo stesso allegato ha validità non so nello specifico la cosa ma direi di sì Laura il mio cell invia email ma non le riceve come mai non è regolato correttamente o non lo utilizzi correttamente anche qui magari vedremo è una buona domanda Sere se il destinatario della PEC usa un filtro spam contro le mie email o addirittura contro sconosciuti come dimostro la ricezione l'importante a te è dimostrare la spedizione ci pensa il tuo gestore di posta a certificare il fatto che tu l'hai spedita è come una raccomandata io vado all'ufficio postale spedisco una raccomandata con ricevuta di ritorno io la raccomandata l'ho spedita poi se dall'altra parte non c'è nessuno che firma non c'è nessuno che... ok non è stata ricevuta ma se io avevo il compito di spedire la comunicazione ho certificazione di aver spedito la comunicazione quindi sono a posto dal punto di vista legale poi ci sarà da vedere se ne devo spedire una seconda ci sono mille situazioni ma io ho la certificazione che è stata spedita e di solito in caso della PEC certificazione che è stata ricevuta poi se la persona non la vede se ha finti antispam quello che sia sono cose sue a me interessa avere la certificazione in tal senso allora vediamo cos'altro si dice Niang Daniele domanda attivare la sincronizzazione in Google Chrome è una buona cosa fuori diciamo da quello che ci stiamo dicendo adesso ne abbiamo parlato ieri della sincronizzazione in Google Chrome quindi guarda il video di ieri così sai la risposta Nico su Gmail c'è un limite di dimensione di file non si può inviare file superiore a 25 MB si può rimuovere questo limite? No ci sono dei limiti anche all'ufficio postale se tu spedisci una lettera non può pensare 10 kg quella lettera perché allora utilizzi un servizio diverso spedisci un pacco eccetera lo stesso è nella posta elettronica non è un limite di Gmail semplicemente c'è un qualcosa che è una email testo con un allegato ma oltre a un certo limite non è più una semplice email ma è spedire una cosa diversa e quindi si utilizza uno strumento diverso è tipo la condivisione dei file in quel caso lì Loredana ciao Loredana come si scansiona per un email si scansiona come per qualsiasi altra cosa e poi vedremo come fare quando spediremo grazie infinite Mohamed per l'uso della super chat Roberto scusa Daniele ho fatto la PEC con Aruba l'anno scorso con il pagamento Paypal di Totimport l'anno l'anno con rinnovo annuale oggi mi hanno mandato un email con invito a rinnovo e pagamento è una cosa normale hai detto che l'hai fatta l'anno scorso e oggi ti hanno mandato un invito con rinnovo a pagamento vuol dire che l'annualità sta scadendo quindi ti stanno dicendo guarda che la PEC siccome si paga annualmente sta ultimando i suoi giorni rinnova se vuoi proseguire il servizio e quindi paghi di nuovo per un altro anno oppure non lo fai e non la usi più in sostanza se è questo che ho capito bene nel messaggio ma è così si può cancellare una casella di post elettronica non sempre questa è una bellissima domanda Tiziano una casella di post elettronica non sempre si può cancellare ad esempio in Gmail si può quindi Google si può ma è stata quasi una novità quando è uscita questa cosa perché in passato non le potevi cancellare e se le cancelli le fai un po' fatica a cancellarle perché? perché di fatto quando tu ottieni una casella di post elettronica sei un utente e dai importanza all'azienda che te la dà perché più utenti ci sono e più persone più è importante l'azienda che te la dà e quindi non è così facile cancellare una post elettronica anche perché ci sono mille motivi per cui poi magari ti dice l'ho cancellata ma invece mi serviva quindi ci vuole del tempo se io allora ci sono delle funzioni in alcuni gestori di posta che ti guidano a cancellare ti dicono sei sicuro sì e cancelli tutto in altre situazioni tu smetti di usarla semplicemente tu smetti di usarla per te non esiste più ovviamente lei continuerà a ricevere posta ma per te non esiste più dopo un certo periodo di tempo un anno e più smette di esistere certo continuano a spedirti messaggi lì ma del resto se tu decidi di non usarla più o avvisi le tue persone e i tuoi amici le persone che ti scrivono che quella non la usi più e dovresti farlo anche se la potresti cancellare perché non la ricevi più oppure semplicemente non la leggi più e è a posto così quindi questo vuol dire che scegliersi una casella di post elettronica e poi comunicarla a amici parenti studi fisco quant'altro ospedali insomma comunicarla al mondo vuol dire che poi tu ti prendi il carico anche di controllarla e quindi bisogna averne buona cura e sceglierla bene ancora vediamo Silvia ciao Daniele a tutti bene Mauro come si fa a cancellarsi da una email per passare a un'altra poi vedremo se è possibile allora teniamo conto che in alcuni casi io posso cancellarmi non sempre ma automaticamente non c'è il passaggio a un'altra tu puoi passare a un'altra ma devi dire a tutte le persone che ti scrivevano qui di non scriverti più qui e di scriverti di là per cui è un lavoraccio si cerca di non fare il passaggio certo qui io posso dire manda la email automaticamente dall'altra parte ma allora devo tenermi la vecchia e poi devo tenermi la nuova quindi è fondamentale sceglierla bene in partenza e adesso vedremo come ragionarci e come fare vediamo un po' cosa si dice Stefano mi dice ho sentito che non possiamo vedere un allegato in spedizione io per vedere se ho allegato il file giusto ci clicco sopra e lo leggo ok non ho detto che non si può si può fare dipende dalle situazioni dipende da che casella di post elettronica utilizzi qualcuno non te lo fa leggere nel momento in cui lo clicchi qualcun altro si comunque è sempre una distrazione o un uscire dal momento da quello che stavi facendo quando sarà ora di fare un allegato io so che se devo spedire un preventivo al signor Rossi il preventivo del signor Rossi è già stato scritto salvato correttamente in una determinata cartella del mio computer con il nome adeguato preventivo Rossi e io so che è là quando poi mi metto a scrivere un'email vado nella cartella destinata clicco su preventivo signor Rossi e non sto lì a riguardarlo a rileggere quello che ho scritto dentro a vedere se ho scelto bene il prezzo e quant'altro ogni fase al suo momento scrivo il preventivo lo decido decido il prezzo e tutto quanto lo salvo mi accerto di averlo salvato e tutto quanto è il lavoro finito quando lo spedisco scrivo l'indirizzo del signor Rossi prego il preventivo e lo spedisco basta non devo avere 5 preventivi signor Rossi da non sapere più qual è eccetera se no vuol dire che sto lavorando male in sostanza ok e sto perdendo tempo se ogni passaggio devo controllare se il passaggio precedente era giusto e se il passaggio precedente era giusto e se il passaggio precedente era giusto il computer serve per far prima le cose non per impiegarci di più ok e me lo sento chiedere spesso questa cosa qui allora vediamo cos'altro si dice in chat benissimo vedo un sacco di cose torno un po' indietro Roberto posso ricevere posta non PEC su una casella PEC dipende in linea di massima meglio di no alcune funzionano alcune no alcune potrebbero funzionare con alcuni indirizzi alcuni no quindi se hai una PEC è la PEC e non ti interessa ricevere altre robe pubblicità e quant'altro la PEC è professionale e lavori solo con quello altra casella di posta elettronica per tutta l'altra roba che non è PEC questo di solito è l'orientamento classico allora vediamo cos'altro si dice Massimiliano ciao Daniele per spedire via email file di grandi dimensioni esempio video esiste un sito che si chiama WeTransfer è gratuito ma è il passato adesso non serve più affidarsi a questo c'è l'abbiamo usato c'è anche un video che ne parla di qualche anno fa adesso si carica tutto sulla nuvola e quindi lo lasci lì devi spedirlo a qualcuno gli mando il link e quella persona se lo va e se lo scarica da solo e se poi domani devo spedirlo a qualcun altro non devo rifare tutto il lavoro è già sulla nuvola mando il link anche all'altra persona e l'altra persona se lo scarica anche lei eccetera eccetera posso decidere se farglielo solo vedere solo scaricare quindi siamo andati avanti con i discorsi e allora vediamo cos'altro c'è allora Aldo confermo va bene grazie confermo quello che dice Stefano va bene che si può cliccarci sopra e guardarlo e quindi ritorniamo al solito discorso allora Sergio va bene grazie dei complimenti Giovanni si possono avere due pack certo basta pagare quando tu paghi puoi comprare tutto quello che vuoi ciao Giulietta ben arrivata grazie dei complimenti Gianfranco Tiscali consente allegate fino a 2 gigabyte benissimo considerate un'altra cosa però Tiscali consente allegate fino a 2 gigabyte scrivo a qualcuno la cui casella di posta consente allegati cioè cose di dimensioni minore secondo voi si infila se il postino arriva con un pacco grosso così e deve infilarlo nella vostra cassetta della posta di casa si infila o va perso quel pacco viene appoggiato lì e il primo che passa lo prende su lo stesso discorso è per la posta c'è una certa dimensione c'è un motivo per cui c'è una certa dimensione allora vediamo cos'altro dice su Outlook si vede tranquillamente benissimo ho sentito parlare dell'email temporanea è vero ne abbiamo parlato in qualche video adesso non so se c'è Sergio se anzi Sergio so che c'è vediamo se trova il video dell'email temporanea allora Carla se ricevo un'email tra gli spam ma non so che chi la invia non è un pericolo come posso togliere quell'indirizzo dagli spam per riceverla normalmente quando vai in spam vedi l'email della persona la selezione di solito c'è scritto non è spam tu scegli non è spam e quella torna fuori poi bisogna vedere se lo fa a tutti gli effetti perché il filtro anti spam cioè anti email spazzatura lo posso controllare ma ha anche un suo automatismo a me capita ad esempio di avere un email che ricevo con piacere tutte le volte e che sistematicamente va in spam anche se io dico guarda che questa non è spam però in teoria quello è il procedimento e quindi di solito funziona salvo qualche eccezione come posso constatare io allora Carla questo l'abbiamo già detto Alessandro io l'ho chiesto perché un giorno ho scritto da gmail a tiscali e non mi era arrivata mentre invece dopo due giorni mi è arrivata e non ho capito allora questo discorso specifichiamo il discorso di Alessandro allora qui andiamo già un po' più avanti ma è giusto parlarne la posta elettronica può essere richiesta a più gestori gmail tiscali libero virgilio outlook ce ne sono un mare se io da gmail spedisco a tiscali arriva sì se io da tiscali spedisco a gmail arriva sì assolutamente tutti quanti i gestori possono spedire a tutti gli altri quindi non c'è limite in questo ma ognuno sceglie il suo ufficio postale preferito poi però può interagire con chiunque è come se nel mondo informatico ci fossero tanti servizi postali un po' sta accadendo anche in Italia un po' sì un po' no nel senso che a fianco alle poste c'è anche magari qualche altro servizio postale ma diverso da poste tu puoi spedire da uno all'altro e ricevi certo è che devi essere certo che il tuo gestore è molto valido nel senso che ci sono gestori che magari impiegano di più gestori che impiegano di meno e magari spedire da un gestore all'altro qualcuno fa un po' fatica e quindi certo scegliere un buon gestore di posta elettronica è utile e oggi volendo approfondire questo discorso qui ci sono due gestori di posta elettronica che comunque dobbiamo avere quindi quando io scelgo a chi con chi spedire la mia posta elettronica so che due comunque li dovrò avere di questi gestori per cui o uno dei due o entrambi perché comunque mi serviranno sarà quello che gestisce la mia posta principale allora due li devo avere uno dei due secondo me va preso come gestore di posta principale gli altri va bene magari mi piacciono particolarmente magari me l'hanno regalata questa casella di posta perché poi è così succede così da tantissimo tempo magari ce l'ho da sempre però ce ne sono due leader e sono uno gmail ci serve per forza perché ci serve per far funzionare il nostro telefonino android quindi dobbiamo avere una gmail un account google per far funzionare il nostro telefonino e tutto il mondo google da youtube a tutte le altre cose quindi da google drive google foto eccetera senza una gmail non funziona quindi io in passato tantissimo tempo fa non avevo una gmail questa cosa poi piano piano utilizzandola mi sono reso conto che serve talmente tanto che è diventata la mia e-mail principale e l'altra è una casella di posta del mondo microsoft un account microsoft nel mio caso io ho outlook.it perché alla fine quella serve per sfruttare i servizi di microsoft ad alcuni di noi tanto per accedere al computer anche se non è indispensabile ma poi per accedere alla nuvola se utilizzo il pacchetto office e quindi word, excel eccetera o funzionalità nuvola diciamo anche per quello per cui gmail e outlook o comunque un account microsoft che può avere più diciamo più desinenze più outlook o mail eccetera lo dovrò avere dato che uno di questi due li devo avere tanto vale che uno di questi due sia anche la mia e-mail principale e personale perché così almeno non devo avere una terza e-mail dove ricevo le e-mail personali perché sennò sono tre che devo guardare io in passato avevo la mia e-mail personale che piano piano ho cominciato a utilizzare sempre meno una di queste due nel mio caso la gmail è diventata la mia casella di posta personale quindi oltre a darmi accesso ai vari servizi google e quant'altro è anche quella che guardo sul mio telefonino perché poi la gmail con un telefonino android è naturalmente già funzionante cioè tu metti in piedi il tuo telefonino android lo accedi al tuo account e il gmail funziona già senza fare niente prima Flora mi diceva ricevo ma non spedisco perché non stai utilizzando o l'account giusto o non l'hai configurato correttamente un gmail funziona naturalmente perché è già è già inserito nel telefono quindi non ci sono problemi oppure outlook se sei per il mondo microsoft eccetera ma in quel caso io ho avuto l'accortezza di non dire a nessuno il mio indirizzo microsoft perché per il momento non voglio dover controllare un'ulteriore casella di posta quindi ho il vecchio indirizzo di posta che ogni tanto vado a controllare ma piano piano ho abituato le persone le nuove persone eccetera scrivermi sul nuovo e a qualcuno magari dei vecchi ho detto scrivimi sul nuovo eccetera questi due gmail e microsoft dovremo averli per forza e sono i due leader ce ne sono mille altre e vanno tutte molto bene però non hanno nessuna i servizi che comunque oggigiorno sono indispensabili di questi due quindi averne altre va bene però è un lavoro in più perché poi avremo anche queste per cui se devo ancora cominciare con la posta elettronica scegliamo uno di quei due lì se abbiamo un cellulare un cellulare android andiamo direttamente su gmail ma non voglio spingere proprio per forza per andare su gmail queste due comunque hanno gestito commercialmente bene la cosa e soprattutto offrono servizi tali che ci sono indispensabili per cui da lì non si scappa poi ci sono anche un altro discorso se ho un'azienda uno studio tecnico eccetera oppure un sito internet quindi noi nel nostro caso associazionemaggiolina.it puoi avere un email personale personalizzata nel senso che noi abbiamo ad esempio info chiocciola associazionemaggiolina.it quindi non abbiamo un info chiocciola gmail o outlook nomi generici di gestori pubblici no info chiocciola associazionemaggiolina.it perché chi ha un proprio sito internet paga un dominio internet quindi un indirizzo di solito ha diritto anche a un certo numero di indirizzi email personalizzati e quindi è molto più professionale avere quelli per cui se si ha un'azienda o qualcosa non è bello né sul biglietto da visita né fornire né sul sito fornire una gmail cioè devi avere la tua email istituzionale anche perché ci puoi fare molte più cose perché avendo un nome personalizzato finale info associazionemaggiolina.it posso scegliere un davanti personale senza nessun problema e approfondiremo questo discorso vediamo cos'altro si dice in chat allora Fabrizio è un po' di giorni che seguo i tuoi corsi grazie Fabrizio adesso appena muovo la chat si muove di tanto per cui ho paura di perdere il filo vediamo un po' stanno venendo fuori domande molto interessanti saluto Johnny che dice un nuovo utente ben arrivato Johnny i vari le varie i vari come dire super chat e super sticker grazie infinite massimiliano grazie infinite salvatore tantissime domande per cui scusatemi se qualcuna mi scappa allora Matteo io sono costretto ad usare la vecchia email outlook che non funziona più altrimenti non posso entrare però siccome non mi funziona mi crea problemi con l'email con Yahoo eccetera e insomma bisogna bisogna gestirsi effettivamente come si fa una mailing list ci arriveremo bella domanda Luigi le email tipo gmail libero a all mail sono classiche con le pec è possibile avere un proprio dominio non lo so sinceramente non credo però non lo so Mino buonasera grazie Mino ben arrivato allora Brico O2 ah ok state parlando tra di voi Carmen ok Giuliano dovendo inviare un allegato di grandi dimensioni come faccio a inviare il link qui ci arriveremo quando sarà l'ora degli allegati quindi sarà facile ecco il nostro Sergio 104 come usare internet giallo non mi ricordo più per quale motivo gli ho chiesto questo questo video ma ve lo ricordate voi quindi lo troviamo Elvira Daniele con una mia email ho attivato il profilo Xbox per mio figlio perché era menorenne adesso posso togliere la mia email senza cancellarla del tutto si capita quelli del profilo Xbox quindi da chi ha ricevuto questa cosa generalmente si c'è la possibilità di cambiare le email e di solito non è che puoi cambiare l'email al volo tolgo questa metto l'altra no hai un'email assegnata ne metti un'altra salvi il tutto poi fai in modo che la seconda diventi l'email principale quindi il tuo contatto principale è la seconda email e la vecchia la togli questa cosa qui è piuttosto importante nel senso che io oggi ho un'email vi dicevo prima che avevo l'email personale e su quella hai attivato un sacco di servizi poi piano piano inizi a utilizzare quella nuova per cui quella vecchia non è conveniente disattivarla fin tanto che tu non hai passato tutti i servizi sulla nuova potrebbe succedere che tu non ti ricordi quanti servizi hai attivato sulla vecchia per cui non la disattiverei la terrei accesa comunque perché può capitare che per fare una determinata cosa tu debba accedere ancora alla vecchia email e se non ce l'hai più è un guaio per cui va scelta con con cognizione di causa e quindi bene e poi bisogna tenersela e la terza quella di auto non la sto dicendo a nessuno perché se io comincio a dire tre email in giro poi me ne devo portare indietro tre per un sacco di tempo per cui vanno gestite in sostanza benissimo vediamo cosa dice Giuseppe fuori argomento ne parliamo in un altro momento allora Franco ciao Franco ben arrivato Roberto quando spedisco diverse immagini a volte non sono sicuro di averle messe tutte e per questa ragione volevo ricontrollare gli allegati prima di spedirli certo capisco il discorso però quando tu alleghi puoi vedere i nomi dei file che hai allegato puoi contarle puoi gestirle però ci siamo capisco che uno dice voglio ricontrollare perché come dire poi non non sono sicuro però bisogna cercare di di lavorare e fare la cosa sul momento farla bene con concentrazione e poi andare così se no si continua a ricontrollare indietro Pietro Daniele ci sono grazie però siamo in tanti grazie infinite vedo che siamo in tanti adesso me ne accorgo grazie Pietro di avermelo detto allora registrandosi alle poste danno anche la casella di posta elettronica in molti casi quindi le poste non lo so ma potrebbe essere in molti casi quando ci si registra un sito mi registro a Google Gmail e mi danno Gmail che è la posta elettronica mi registro a Windows per i servizi Windows Outlook e mi danno la posta elettronica mi registro che so adesso non mi viene in mente comunque in molti posti la registrazione e anche una posta elettronica nuova che hai e quindi ti trovi che ce l'hai e allora ti dici la uso no meglio di no gestiamo quelle che usiamo e quelle che non ci servono che non abbiamo richiesto e non le usiamo le usiamo solo per accedere al determinato servizio e quindi siamo consapevoli di questo però sì tante volte ci si registra e ci si ottiene anche una casella di posta elettronica Domenico ah ok non spettatori dice allievi e beh grazie ma diciamo un po' vediamo un po' un po' allora Giuseppe buonasera ben ritrovati Johnny scusa con le email di posta elettronica accedo comunque alle videochiamate duo devi avere un account di Google cioè deve essere una Gmail perché le videochiamate di Google duo sono un servizio di Google e quindi serve l'account Google se hai un email di libero in questo caso non è accettata non funziona perché non è non è loro non è certificata non ha le stesse modi che non hanno la capacità di di accedere è come avere le tessere del supermercato cioè tu vai al supermercato a fare la spesa dopo i dai la tessera punti ogni supermercato ti dà la sua e quindi devi dargli la sua e questo è lo stesso discorso allora sempre Domenico Daniele io ne ho due la prima quella principale la seconda è Gmail sono obbligato da Google è successo così anche per me che sono stato obbligato poi alla fine mi sono trovato che mi è utile quindi sono passato lì però è proprio così Mohamed si può sapere qualcosa di più su Windows Task Scheduler dove parleremo in un altro momento grazie grazie Sergio allora vediamo un po' Lucia grazie Roberto non mi sono spiegato bene in precedenza con Aruba è scritto rinnovo con pagamento automatico grazie allora io anch'io uso i servizi Aruba da tanti anni e quindi spero di aver capito questa volta quando io acquisto un servizio come la posta elettronica come un dominio internet tipo associazione maggiolina.it su Aruba ha una scadenza annuale cioè pago adesso per un anno se io mi dimentico di pagare difficile perché cominciano a scrivermi due mesi prima guarda che tra due mesi scade perché ovviamente è nel loro interesse ma è anche nel mio interesse se io mi dimentico di pagare la PEC perché mi dimentico perché è una vita che non guardo le email loro a un certo punto la chiudono e io non ricevo più i messaggi e quindi poi mi arrabbio perché dico ma caspita io contavo su questa cosa qui per cui generalmente tu quando fai il pagamento paghi con mezzo telematico Paypal carta di credito ok e viene inserito un pagamento automatico cioè l'anno prossimo il giorno di scadenza verranno presi i soldi sempre che ci siano e quindi vai avanti col servizio e questo è di solito lo standard che fanno un po' tutti se non ti va tu puoi comunque andare in qualsiasi momento e dire no tolgo il mezzo di pagamento automatico cosa che io faccio abbastanza spesso e poi allora se ti ricordiamo e tu devi manualmente venire se non vieni però poi il servizio si interrompe spero che sia questo il discorso benissimo qua ci siamo allora Giuseppe fuori argomento lo leggiamo in un altro momento allora Gino con Gmail è possibile vedere se chi ha ricevuto la posta l'ha aperta oppure no no non che mi risulti con la Gmail tradizionale no con la G Suite che è diciamo la versione professionale potrebbe apparentemente sì ma non ho una G Suite e quindi non posso risponderti da quel punto da quel punto di vista lì le email temporanee ah sì grazie Sergio adesso mi è venuto in mente perché l'ho letto quel discorso lì allora salve se si perde la password delle email cosa devo fare quello è un bel problema è come uscire di casa chiudere la porta blindata e poi perdere le chiavi per strada se non hai avuto modo di gestire in precedenza e qui lo faremo fisicamente quando creeremo l'email un modo di recupero quindi se non hai lasciato le chiavi di casa ai tuoi genitori se non hai che so nascoste sotto un vaso una chiave di scorta e ti tocca buttare giù la porta solo che nel caso di gmail loro sono molto più come dire più resistenti di una porta blindata nel senso che quella è la tua privacy noi ci preoccupiamo tantissimo del fatto che scrivo un email gli altri le leggono ma le mie me le leggono quindi la nostra cassetta di posta è bella blindata se perdiamo la chiave non abbiamo dato la chiave a nessuno quindi a nessuno modo per recuperarla ragazzi è veramente difficile riuscire a farsela dare se non impossibile addirittura ne abbiamo parlato in qualche video in passato dicevo usiamo i nostri account con intelligenza e pensiamo al futuro cioè addirittura adesso per gli account facebook per gmail eccetera ti dicono guarda che se per caso tu vieni a mancare e quindi nessun altro di fuori di testa ha la password la tua cassetta di posta il tuo account facebook non viene aperto da nessuno nessuno può accedere quindi adesso tu hai una funzione dove puoi dare in eredità la password o l'accesso al tuo account di posta o a facebook o quant'altro e quindi se tu vieni a mancare noi proviamo a metterci in contatto per te per un certo periodo di tempo se non rispondi capiamo che non ci sei più e allora se hai dato ordine a qualcuno passiamo a qualcuno le password dicendo guarda che quella persona ha lasciato in memoria per te questa password adesso tu hai disponibilità di quella cosa e puoi andare avanti ma se noi non l'abbiamo fatto ed è successo non risulta che si possa accedere a un vecchio account per cui dobbiamo averne cura cioè perdere le chiavi è un guaio grosso se dentro non c'è più di tanto chi se ne importa ma in realtà se invece ho usato quelle email per anche cose importanti che magari su un momento non mi ricordo quando mi mandano un'email arriva là e diventa un problema grazie Loredana per l'uso della super chat quindi perché per noi è importantissima quindi sono importantissime le password in tutto il corso di computer e tutte le parole che mi sentite dire in queste ore le più importanti sono scriversi le password ho digitato una password nuova l'ho creata la scrivo subito non tra 5 minuti non tra 10 non domani perché poi non me la ricordo più ho fatto troppi corsi ho visto troppe persone lì davanti a me su un gruppo di 10 persone facciamo l'email creiamo l'email inserite le password scrivetevi le password tempo dopo 10 minuti sul gruppo di 10 persone almeno 3 non riuscivano più accedere perché hanno scritto una password che non è quella non se la ricordavano bene non se la ricordano più eccetera quindi una percentuale altissima e capita a tutti me compreso quindi bisogna scriversi le password come si deve subito e qui poi ne parleremo grazie infinite Gabriele per l'uso della super chat che per noi è un sostegno importantissimo vediamo cos'altro si dice sempre in chat sempre cercando di andare in fila che ore sono intanto abbiamo ancora un po' di tempo allora come faccio a creare un Google Meet allora puoi creare gratuitamente un Google Hangout Google Meet se non mi sbaglio è sempre per chi ha G Suite e quindi delle funzioni professionali Google Meet ci stiamo trafficando anche noi per creare la nostra la nostra videoconferenza perché ci sono stati dei cambiamenti a cui dobbiamo adeguarci magari in futuro ne parliamo e vediamo come fare in specifico allora Alessandro se voglio inviare via email dei documenti che ho cartacei cartacei posso scannerizzare sì ormai il modo più veloce di scannerizzare è fargli una foto col cellulare i cellulari hanno anche la funzione scan per fare queste cose ormai fanno tutti così c'è lo scanner ma non si usa più di tanto allora torno indietro per vedere i messaggi passati per non averli saltati troppi perché mi dispiace allora Gino con gmail è possibile vedere abbiamo già parlato di questo Sergio abbiamo già visto Gianfranco sì le poste danno email infatti mi pareva ma non volevo dirlo per certo perché non ricordavo bene grazie grazie per il mi piace che come dice giustamente Aldo grazie per il mi piace ragazzi Patrizia ciao saluti a te allora vediamo Alessandro abbiamo già parlato di questa cosa qui Arduino come faccio a creare un Google Meet anche te abbiamo già parlato alcuni indirizzi email funzionano in altri paesi del mondo ma non in Italia da cosa dipende non ho idea di questa cosa a me risulta che si può mandare un indirizzo email un email ovunque con un qualsiasi indirizzo email però non posso dire di aver spedito così tante email nel mondo da poter sapere se eventualmente non è così quindi non so risponderti Gabriele posso creare un email per un altro sì però tu saprai la sua password ma si fa abitualmente quanti nonni tra virgolette hanno avuto il nipote che gli ha creato l'email tantissimi quando li vedo ai corsi più della metà e quindi poi ce l'hai ma poi quei nonni si dicono ma per ora a me sarebbe piaciuto un nome diverso ma per ora la password non la so eccetera quindi si può fare è più faticoso ma sarebbe meglio guidare la persona a crearselo per conto suo perché così può farsi le sue scelte certo sappiate che ci vuole un po' di tempo perché quando cominci a dirgli che non mi vuoi sceglierti e ci vogliono 20 minuti perché uno pensi il nome che password vuoi sceglierti se gli spieghiamo tutte le cose ci vuole un sacco di tempo vedete che siamo qui noi per cui se lo chiedete a un tecnico se lo chiedete a un nipotino ve la fa e vi dice questa è la tua email questa è la password uno della password non sa bene cosa farsene se la dimentica subito va via solo con l'email e poi quando sarà ora nascono i problemi per cui farsela da soli è importante perché fai le cose come si deve compreso l'email di recupero gli indirizzi di recupero e i metodi per recuperare questa cosa se perdo la password quindi le famose chiavi sotto il vaso davanti a casa allora Alessandro lo saluto perché vedo che da Firenze ciao Sergio c'è un sistema per eliminare le email fraudolente le sposto su spam ma mi continuano ad arrivare con nomi diversi non c'è un sistema per eliminare le spam è come la pubblicità in cassetta adesso forse ne arriva meno però in generale ve la portano e quindi vi arriva e lo stesso è nelle email allora Gabriele dice posso creare un'email per un altro quello che abbiamo visto prima Nico sul mio pc Windows 10 c'è installata un'applicazione che si chiama Posta posso inserire l'account Gmail per vedere l'email o devo mettere per forza l'account Microsoft no puoi inserire anche l'account Gmail l'abbiamo fatto anche noi in qualche video passato comunque si può fare tranquillamente anche qui magari un po' alla volta nei prossimi video arriveremo a farlo ci sono dei vantaggi e degli svantaggi quindi li valuteremo Gianfranco consiglio app password safe con una con una le ricordi tutte ne abbiamo già parlato di questa cosa io non sono d'accordo utilizzare un gestore di password è molto comodo però è come prendere una persona che passa per strada oggi non ne passano tante quindi la scelta è più difficile ma una persona che prende per strada questo è il mio libricino delle password tutte le volte che io avrò bisogno di una password tu devi esserci devi funzionare devi essere presente e me la devi dire ok quindi ho due problemi il primo che quel gestore di password quando è ora che mi serve funzioni nonostante gli aggiornamenti continui di Windows nonostante gli anni perché io ho password che vengono da quando avevo ancora Windows XP quindi passate attraverso varie edizioni di Windows eccetera quindi quel gestore di password deve riuscire a seguirmi sui vari computer e poi deve essere sicuro io ho un gestore di password conosco chi l'ha fatto so come è stato fatto eccetera è gratis tante volte è gratis un gestore di password gli devo dare tutte le mie password certo è comodo ma mi fido siamo sempre lì a chiederci ma se mando un'email non me la legge nessuno ma se faccio una chiamata con Duo è sicura e poi diamo le password così subito al primo gestore di password che capita poi lo fanno tantissimi i gestori di password ci sono e quindi ci sta probabilmente sono io che ho più resistenza del solito a passare a questa cosa però io preferisco gestirmele personalmente per averle a portata di mano con qualsiasi mezzo e subito però so che esistono e che tante persone le usano allora ciao Paola vediamo cosa dice Brico Wood utilissimo grazie ok parlava proprio di quel discorso lì Elvira le pass si può recuperarla se hai messo un'email di recupero o hai attivato il numero di telefono dal momento al momento della registrazione sì servono proprio a questo Gabriele posso creare un'email per un altro l'abbiamo già detto sì puoi farlo Loredana Google mi ha chiesto di controllare le password certo perché loro ci tengono alla sicurezza e poi succede che le persone se le dimenticano e diventa difficile recuperare Paola si può eliminare account Google non ricordando la password devo eliminare due puoi aiutarmi grazie no le password servono è come comprare una macchina molto costosa e poi non avere più le chiavi per guidarla servono le password serve la password per eliminare un account e diceva non mi serve più cosa me ne faccio della password tanto devo buttarlo via sì ma la password serve ad autenticare che sei tu a volerlo cancellare e non un tuo amico o un tuo nemico che vuole farti un dispetto e quindi prende il tuo account e te lo cancella la password serve proprio e te la chiederanno tre volte se vuoi cancellarlo e ti sei sicuro e rimetti la password sei sicuro ma metti la password un'altra volta perché è un'azione molto importante e quindi deve essere molto protetta se non c'è la password non si può fare allora vediamo cos'altro si dice Rosario buonasera e poi tornando a quel discorso lì non cancellarlo lascialo lì e stop se non hai la password Rosario diceva a me arrivano mail dal Colombia un omonimo ed anche lui ha gmail come posso fare può succedere questa cosa di mandare un'email o di ricevere un'email perché c'è un omonimo danielecastelletti chiocciolagmail.it o castelletti danielechiocciolagmail.it sono due email diverse quindi siamo omonomi ma le email sono diverse perché non può esistere un email uguale all'altra non può chi ve la manda sta sbagliando sta invertendo i nomi o comunque non è giusta per cui continuo a ricevere queste email qui o cortese chi la riceve può solo cortesemente rispondere e dire guarda probabilmente stai sbagliando persona perché non ti conosco non so di così mi parli cioè siamo completamente fuori argomento questo è l'unico modo per sperare di come dire smettere di ricevere quelle email lì sempre che qualcuno non si sia registrato qualche servizio così che mandano pubblicità e quant'altro con la tua email casualmente sparata a caso mariorossichiocciolagmail.com qualcuno ce l'avrà mi viene in mente quella lì la scrivo però quello poi riceve le email fastidiose diciamo però si può sempre cancellare da un email da una mailing list che non vuoi anche se ci può può non essere semplice quindi anche qui vedremo come fare vedo che stiamo stiamo andando ancora con la chat vediamo un po' abbiamo ancora qualche minuto prendiamo qualche domanda ancora allora Mauro io me la cavo da me non mi fido dei gestori di password allora io a me non piacciono ripeto però capisco anche dall'altra parte chi li utilizza con successo e con piacere però dovendo dare un consiglio io ho dato il mio in sostanza allora Gianfranco intendevo tutte le password meno quelle sensibili sì certo insomma ci sta ognuno ognuno si gestisca come 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 crede e va benissimo ci sono anch'io delle password che memorizzo nel browser perché dico ma sì qua lì non mi interessa più di tanto però è così faremo un discorso approfondito su questa cosa delle varie password di come sceglierla ci sarebbe da parlarne un'altra ora e proprio per una password poco sicura qui dove non mi importa tanto mi fa un danno dall'altra parte dove mi importa di più e a volte sì quindi dobbiamo ragionarci e quindi ci pensiamo Mohamed c'è un modo speciale che ci aiuta a mettere da parte in un posto sicuro le password che sono tante diciamo che ognuno ha il suo modo ne parleremo proveremo ne abbiamo fatto vari video se voi cercate se voi scaricate la app Asmaggiolina questa sul vostro smartphone e poi scrivete al suo interno password vi saltano fuori tutti i video in cui ne abbiamo parlato ciclicamente ogni tanto ne parliamo e sono delle idee perché poi ognuno si gestisce come vuole e se devo dire la verità ho un modo sicuro di gestire le password e non dire agli altri come le gestisci perché non gli dai una mano quindi io vi darò dei suggerimenti ovviamente però per dire ognuno si gestisce le sue password e dovrebbe non dirlo agli altri perché già quello è un grado di sicurezza ok per gestirsi se no so già dove andare a cercare in sostanza vediamo Flora perché la posta di Windows non è sicura nessuno ha detto che la posta di Windows non è sicura Flora Giuliana grazie grazie mi fa piacere che apprezzi Giuseppe anch'io mi gestisco le mie email e le mie password facendo una lista personale Paola dice scusami non so per quale motivo adesso mi è scappato il messaggio vediamo un po' perché appena tocco la chat va veloce eccola qui Paola scusami forse Missino ma probabilmente da poi ti è partito il messaggio male buona serata ci stiamo salutando ancora un paio di domande ammasso del presepe e il comando di Windows 10 per copiare con la memoria multipla start più ne parleremo in un altro discorso le mie password sono sulla nuvola con password dice Giuseppe allora Marina grazie vediamo ancora vediamo ecco Paola forse mi sono espressa male ho creato un account Google perché avevo dimenticato password le ho recuperate ma vorrei eliminare account e averne solo uno si può fare sì allora avevo capito male assolutamente sì lo faremo in uno dei prossimi video mi vedrete creare un account Google per ottenere una Gmail e successivamente mi vedrete cancellarlo ma se cercate qua con la app maggiolina cancellare account Google salta fuori perché l'abbiamo già fatto in altri video e il procedimento anche se è passato del tempo alla fine è sempre quello bene direi che ci siamo ragazzi scusate mi pare di aver letto tutto Dennis qual è l'email di recupero rispondo a questa domanda poi basta restiamo l'ultima allora quando io ottengo una email per me in fase di creazione dell'email mi dicono senti capiterà se dovessi capitare che te la dimentichi io ho bisogno di sapere che sei tu e di mandartela in un posto sicuro hai un posto sicuro a cui un'altra email un numero di telefono un qualcosa dove mandartela in modo che tu possa recuperarla perché questa la sei dimenticata in quella fase gli do o il numero di cellulare o un indirizzo email alternativo magari ne ho un altro quello del lavoro insomma l'importante che sia mio o moglie marito sì ma sarebbe meglio che fosse vostro neanche figli eccetera meglio che fosse vostro un secondo indirizzo email potreste non avercelo questo è il primo e non ce l'ho e metto il numero di telefono e quindi se ti dimentichi la password gli dici ah mi sono dimenticato la password loro ti dicono bene l'abbiamo mandata quell'email tu non riesci neanche a leggere tutto il nome perché non lo scrivono tutto per non facilitare un eventuale è una persona che prova ad accedere fraudol insomma senza autorizzazione e quindi tu che ne leggi solo un pezzo dici ah sì quell'email lì perché l'hai messa tu vai là la leggi e sei a posto sblocchi tutto altrimenti ti trovi in difficoltà bene ragazzi direi che ci siamo allora Cinzia mi chiede per la videoconferenza pensi che ci potremo organizzare sì abbiamo già cominciato ad organizzarci c'è da da gestirci da gestire ancora qualcosa ci lavoriamo un po' ma qualcosa già si può fare se ti metti in comunicazione con Aldo già ti può dare delle dritte per fare quello che si può ti ringrazio infinitamente abbiamo fatto chiacchiere relative alla posta elettronica ma direi che servivano servivano tutte nei prossimi video cominceremo a utilizzarla a piedi allora mi preparo a salutarvi eccoci qua ciao ragazzi buona serata e grazie infinite e grazie a tutti Grazie a tutti.